Da Rossini a Donizetti, da Bellini a Verdi e da Puccini a Gershwin saranno alcune delle più belle arie, duetti, terzetto d'opera e canzoni della tradizione lirica internazionale a rendere indimenticabile la serata del 4 di agosto nel cartellone di anfiteatro Sotto le Stelle c'è in programma Mario Cassi & Friends per Arezzo. Un concerto all'insegna della generosità e della bellezza tra gli ospiti d'onore Katia Ricciarelli e il soprano Sumigio. Ci tengo molto, è un concerto in beneficenza per le vittime del Covid e che aiuterà lo sportello di Arezzo gestito credo con la Croce Rossa per aiutare tutte le persone che soffrono in questo momento, che sono tante. Quindi come ho detto 4 anni fa, quando grazie alla generosità io misi la voce, però gli aretini misero la beneficenza e vennero ad applaudire me e in contemporanea aiutarono tutti i concittadini che soffrivano. Quindi ci saranno 10 star dell'opera, veramente di tutto il mondo, che per vederle si dovrebbe fare un biglietto per andare a New York magari, invece l'avrete a casa, ma abbiamo bisogno di voi, degli aretini che con il loro grande cuore renderanno la serata indimenticabile. Il 5 di agosto poi arriva a Pupo Enzo Ghinazzi con i 40 anni della sua Su di noi. Su di noi, nemmeno una nuvola. Su di noi, l'amore è una favola. Su di noi, se tu vuoi valare tu. Auguri Arezzo!